Buonasera amici di Otto Channel, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Offside Benevento. Pazza, super pazza direi, partita al Vigorito Benevento sotto di due gol al sessantesimo capace di acciuffare il Parigi e poi addirittura ribaltarla nella ripresa una squadra che non aveva mai segnato nei secondi tempi. Ne fa tre in un colpo solo, doppietta di Simonetti e gol di Passina che proiettano il Benevento momentaneamente al secondo posto in classifica da solo in attesa della partita del Picerno. Ascolteremo live la voce dei protagonisti al Vigorito come sempre in questa veramente pazza partita tra Benevento e Crotone terminata 3 a 2 dove per noi al Vigorito come sempre c'è la nostra Sonia Lantella e lo faremo ascoltando la voce in studio come sempre del preciso e puntuale Billy Nuzzolillo a cui do il bentrovato. Ciao Pasquale, buonasera telespettatori. Rapidissima battuta con te, una veramente partita strana ma una partita che il Benevento per quanto ha prodotto, per la mole di gioco che ha prodotto mi sento di dire che ha vinto meritatamente. Crotone che era stato bravo ad approfittare di due errori della retroguardia del Benevento di portarsi sul 2 a 0. Poi serviva quel guizzo, no Billy, prima dell'1 a 0 di Dursi Benevento aveva sprecato un'occasione clamorosa con Teglio, con Dini e poi serviva quel guizzo, c'è stato quel guizzo di Simonetti, poi pareggio di passi in ancora Simonetti che ha consentito al Benevento di incamerare il quinto risultato utile di fila e di portarsi momentaneamente da soli al secondo posto in classifica a quota 13. Sì, vittoria pesantissima, innanzitutto perché una vittoria in rimonta, una squadra in svantaggio sul 2 a 0 poteva a un certo punto lasciarsi andare, invece no, ha avuto la capacità mentale di reagire. Vittoria pesantissima perché ottenuta contro una diretta concorrente, una squadra con cui chiaramente c'è una grande rivalità sportiva e quindi è questo un ulteriore segnale anche di maturità di questa squadra. E quindi una vittoria che poi da un punto di vista classifica hai fatto bene a sottolineare, proietta il Benevento al secondo posto alle spalle della Juve Stabio in altezza della partita del Picerno che potrebbe tutt'al più raggiungere il Benevento se non ricordo male, se non ho fatto male i calcoli. Quindi chiaramente... Sì, potrebbe raggiungere il Benevento e il Picerno in caso di vittoria a 13. E quindi chiaramente è una vittoria che dà un segnale importante al campionato e a tutte le concorrenti. Assolutamente sì, mettetevi comodi, restate lì, noi ce ne andiamo subito in pubblicità, poi a rientro andremo live dal Vigorito con la nostra Sonia Lantella per ascoltare la voce dei protagonisti in questo spettacolare pirotecnico 3 a 2 del Benevento rimonta col Crotone. A tra poco. Benevento che batte 3 a 2 il Crotone in rimonta. Andiamo subito al Vigorito dove per noi c'è la nostra Sonia Lantella. Sonia vengo subito da te per un primo rapido giro di commento anche con te. Buonasera e bentrovato. Il Benevento che davvero non poteva perdere questa partita, davvero sarebbe stata una sciagura per la mole di gioco creato e soprattutto per la quantità innumerevole di pallegol anche sprecato. Poi per la legge non scritta solida del calcio, gol mancato, gol subito, sbaglia il gol clamoroso Teglio davanti a Dini, ripartenza, segna d'Ursi però capacità di reazione della squadra che ne fa 3 nella ripresa. Squadra che non aveva mai segnato nei secondi tempi, trascinata da un pubblico fantastico e che conquista 3 punti fondamentali che come dicevamo con Billy poco fa danno un segnale forte al campionato. Ben trovata. Innanzitutto buonasera a voi, un saluto ai telespettatori. Una sfida mai banale, quella con Crotone, lo sapevamo, ha sempre una grande importanza, se si pensa che qualche anno fa profumava addirittura di Serie A. Però c'è da dire che c'è stata una grande reazione caratteriale da parte del Benevento che nel primo tempo aveva avuto due o tre occasioni, quella più clamorosa con Teglio e poi subito dopo è un po' la legge del calcio, quando si sbaglia si può anche subire. Però il Benevento nella ripresa non si è fatto sopraffare, ha continuato a crederci bene i cambi di Andrioletti, possiamo dire tutti azzeccati, con Simonetti che ha fatto una grandissima partita, ma sapevamo il valore di questo calciatore, è arrivato all'ultimo respiro del mercato dall'Ancona, tra l'altro con le proteste che c'erano state perché non volevano perdere un giocatore così importante. Alla fine Carli è riuscito ad avere la meglio e si è visto che è un calciatore tecnico, un calciatore che dà qualità, un calciatore importante, giovane e quindi sicuramente di prospettiva per il Benevento, poi anche in gol a Pastina. Diciamo sicuramente che non era semplice, sul 2-0 sembrava potesse finire in quel modo, invece poi il Benevento è riuscito a riaprirla, addirittura a vincerla. È un segnale positivo questo, viene dopo una serie di risultati utili, ma sicuramente fa capire che il vento in casa Benevento è cambiato, è stato bello ancora una volta l'abbraccio tra la curva e i giocatori, proprio perché è come se a mio avviso quest'oggi si fosse dato un calcio definitivo alla passata stagione, alla sciagurata passata stagione. Il Benevento ha cambiato ritmo, ci crede, il gruppo consolidato, unito e sicuramente si andrà a Cerignola con uno spirito diverso. Il motto quest'anno è quello di non fare voli pindarici, ma di pensare a partita per partita. Il Benevento lo sta facendo e al di là della prima battuta d'arresto in casa della Turris, dove ci può anche stare perché bisognava entrare nella nuova categoria, a scrollarsi di dosso le vecchie tensioni e poi da lì insomma il Benevento ha premuto il piede sull'acceleratore e ha dimostrato insomma di poterci stare bene decisamente in questa serie C e poi sinceramente anche la fortuna di avere finalmente un'infermeria quasi svuotata, ha solo un lieve fastidio Terranova, chiaramente oltre all'infortunio più importante di Meccariello, però è stato bello rivedere in campo in prota, lo stesso Agazzi, per cui ecco anche Andrioletti avrà più scelte ma soprattutto più qualità per un Benevento che inizia a crederci e che fa sorridere ai propri tifosi. Certo che sì, ventaglio di scelte importanti, come sottolineava benissimo Sonia, è stato importante a Bigli rivedere in campo in prota, Ciano ha anche visto che Bigli è entrato bene, autore anche delle due punizioni, o meglio calcio d'angolo e punizione del 2-2 e del 3-2, Bigli comunque un ingresso sul terreno di gioco del calciatore nativo di Marcianise importante, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, anche quando non segna però è importante Ferrante perché autore dell'assist per il gol di Passina del momentaneo 2-2, bene, bene e soprattutto sorridiamo, Andrioletti può sorridere perché sono rientrati Agazzi in prota, ecco, magari non c'è stato bisogno perché se ci fosse stato bisogno avremmo potuto vedere in campo anche negli ultimi 10-15 minuti anche Ciciretti, come aveva sottolineato benissimo anche Andrioletti. L'importante è avere problemi di abbondanza, Bigli, dopo un periodo nero. Ma credo che ci sia una riflessione da fare. Prima della partita guardavo un po' la distinta del Benevento e ho visto che in panchina c'era gente come Masciangelo, Kubica, Marotta, Ciano, Improta, Simonetti, Agazzi, Carfra, Bolsius e Ciciretti. C'è un'altra squadra, una seconda squadra. Per cui ecco, nel momento in cui il Benevento recupera questi calciatori e devo sottolineare anche un altro aspetto importante, quest'anno il Benevento nel recupero dei calciatori lo sta facendo con molto acume. Non ci sono recuperi affrettati, se i calciatori non rientrano in gruppo almeno per dieci giorni non si affacciano sul terreno di gioco. Insomma, sta affilando tutto in un modo professionale, diverso rispetto al passato e poi sono d'accordo con Sonia. Questa squadra, lo si è visto dalla passione con cui il pubblico ha seguito le geste dei calciatori, ha definitivamente cancellato lo sciacurato anno riblis precedente, ma con la forza della volontà, perché il pubblico ha percepito in queste partite al di là della rimonta di oggi, una squadra che scende in campo per lottare, anche magari con i calciatori meno tecnici, faccio un esempio a caso. Per esempio Caric, c'è un calciatore che sappiamo non è che sia dotato di grande tecnica sopraffina, però è un calciatore che in campo ci mette l'anima, lotta su ogni pallone e con il suo dinamismo consente di avere equilibrio alla squadra e sono quei calciatori che chiaramente interpretano al meglio quello che è lo spirito della categoria. Coinvolgo nuovamente Sonia Lantella, vedevo che annoiva Sonia anche e soprattutto una squadra che si è calata nella mentalità della Cia e poi abbiamo visto dopo il gol di Vitale che è andato quasi a sfidare, anzi togliamo il quasi del Crotone, la curva su del Benevento, anche è arrivato subito Benedetti a muso duro, aveva commesso un errore lo stesso Benedetti con Berra, però si è rifatto subito dopo regalando a Simonetti l'assist per il gol del momentano 1-2. Questa squadra che lotta su tutti i palloni e che sembra davvero incarnare il fiero spirito del popolo sannita, no? Ho sbaglio? Ma è l'atteggiamento che è cambiato sicuramente al di là di quelle che sono le qualità tecniche e di quella che è la visione tattica che sta provando a dare Andreoletti, bisogna dire che è proprio cambiato lo spirito di una squadra che vuole lottare su ogni pallone. Sono d'accordo con Billy, questa sera è giusto porre l'accento anche sulla prestazione di Caric, perché è un calciatore che ha lottato su ogni pallone, ci ha messo grinta, ci ha messo determinazione. Poi sappiamo benissimo che per dare ad una squadra equilibrio c'è bisogno di più ingredienti, sicuramente la qualità, la qualità che può passare attraverso i piedi di molti giocatori all'interno della rosa giallorossa, ma c'è bisogno anche di chi cura la fase di interdizione, di chi fa legna e Caric è sicuramente uno di quelli che rappresenta proprio queste caratteristiche. Per cui sicuramente io trovo un benevento molto equilibrato, bene assortito, ma soprattutto va detto che è cambiato l'atteggiamento. Un atteggiamento propositivo, la voglia di non perdere, la voglia di non abbassare mai la testa neanche dinnanzi alle difficoltà quando le situazioni diventano complicate, quando la partita si mette in salita. C'è sempre la voglia di restare uniti, compatti e di crederci fino alla fine. Io mi fermo qui perché è pronto Andrioletti, per cui ecco il tempo di darci il cambio e poi chiaramente Pasquale puoi tornare da noi. Assolutamente sì, chiaramente mi avviserà la regia. Una questione di atteggiamento, poi a breve ascolteremo la voce di Andrioletti poi vedremo anche i risultati finora maturati in questa sesta giornata ricordando che è iniziata praticamente adesso, sta iniziando adesso la sfida tra Picerno e Sorrento nel caso in cui i Lucani riuscissero a battere la formazione campana salirebbero a quota 13, aggancerebbero il benevento a quota 13. Billy, è una questione di atteggiamento, no? Sì, è chiaro. Questa squadra sin dall'inizio ha dimostrato di avere un atteggiamento aggressivo in campo che un po' rispecchia quella che è la mentalità dell'allenatore, lui l'aveva detto sin dall'estate aggredire altri avversari, insomma il dinamismo e l'aggressività sono due ingredienti che caratterizzano questa squadra. Assolutamente sì, dinamismo e chiaramente aggressività. Tra l'altro se ricordi dopo nemmeno 60 secondi il pallone di Ferrante per Caric è stato troppo lungo, altrimenti Caric già si sarebbe trovato davanti alla porta di Dini. Stasera però abbiamo visto due squadre che amano giocare al calcio, Billy, no? Ma non sembrava infatti una partita di Serie C in tutta franchezza. Abbiamo visto due formazioni che entrambi hanno giocato a viso aperto cercando di prevalere sul piano del gioco rispetto agli avversari. Sicuramente un bello spettacolo per i tanti tifosi a corsi al Ciro Vigorito. Tra le fila del Crotone c'era l'ex Petriccione, ne parliamo tra poco. Andiamo nuovamente allo Stadio Vigorito dove in compagnia della nostra Sonia Lantella c'è mister Matteo Andreoletti, a voi. Sicuramente un Andreoletti sorridente, non sembrava una partita semplice per come si era messo. Il Benevento era partito bene, diverse occasioni poi alla fine però è arrivato questo gol che aveva piegato le gambe. Insomma, sul 2-0 era una squadra che poteva demoralizzarsi invece è venuto fuori l'atteggiamento, è venuta fuori la cattiveria ma è venuta fuori anche la qualità di giocatori importanti. Sì, partita dai molti volti, una partita che secondo me abbiamo approcciato anche abbastanza bene. Siamo stati bravi come sapevamo perché il Crotone è una squadra che sa giocare ci siamo anche difesi con ordine, secondo me, nella prima parte di gara ripartendo con buona qualità, creando i presupposti per andare in vantaggio gli episodi poi spesso nel calcio ti puniscono perché poi è l'occasione per fare gol clamorosa e quando poi la sbagli poi spesso vieni punito, così è stato. Sapevamo di affrontare un avversario di grande qualità che se non gli vai uomo uomo, come abbiamo fatto con più aggressività nel secondo tempo ha le qualità tecniche, il fraseggio per metterti in difficoltà cosa nel primo tempo hanno fatto gli avversari con buona qualità, noi un po' meno. Nel secondo abbiamo fatto una gara molto più aggressiva, una gara molto più propositiva abbiamo alzato il tasso tecnico della squadra, cosa che ripeto spessissimo quanti più giocatori di qualità in campo, quanto più è facile gestire la palla è chiaro che secondo tempo quando fai i cambi in Serie Cicciano, in Prota questo tipo di giocatori, Simonetti, quando entrano questo tipo di giocatori è chiaro che diventa tutto molto più semplice ma che lo sia stata veramente la vittoria del gruppo un gruppo straordinario perché quando sei sotto 2-0 il rischio poi di prenderli imbarcata c'è perché poi rischi di andare a recuperarla, prendere dei contropiedi invece siamo sempre stati ordinati anche sul 2-2, la squadra ha voluto vincere ma con equilibrio e quindi penso sia il merito di come stanno lavorando questi ragazzi, di quello che stanno creando tra di loro perché davvero se lo spirito è questo, dico spesso, il giorno che riusciremo ad alzare la qualità ne abbiamo assolutamente bisogno. Io sono mai contento nemmeno oggi perché questa squadra può fare molto meglio io sono convinto che le basi sono queste, sono eccezionali se cresciamo dal punto di vista della manovra e nella personalità del primo tempo allora siamo adesso di una squadra importante. Buonasera e ben trovato mister, un aspetto rapidissimo aveva invocato nuovamente l'ausilio del pubblico un pubblico che anche sul 2-0 non ha mai smesso di citare la sua squadra e che ha trascinato i suoi calciatori e l'abbraccio finale oramai che sta diventando un po' il leitmotiv di queste partite di queste prime partite di campionato ne è l'emblema, o sbaglio? Sono d'accordissimo, queste partite soprattutto quando sei sotto non le recuperi da solo una squadra difficilmente ha la forza per farlo nel girone sud che sto scoprendo questo è l'aspetto ambientale che fa la differenza chi gioca in casa ha la possibilità di giocare veramente in 12 noi a volte giochiamo anche in 12 e mezzo, a volte 13 grazie al nostro pubblico e oggi sono stati straordinari però, ripeto, deve crearsi questa alchimia il pubblico si ostiene, la squadra che si fa amare non è scontata, so che ho detto più volte partivamo da una posizione di svantaggio perché avevamo tante cose da farci recuperare per quello che era la stagione passata e credo che ragazzi lo stiamo facendo sia chi è arrivato nuovo come me che ha tutto il massimo entusiasmo per farsi amare ma anche chi è rimasto da passata stagione si è messo in escursione in una categoria inferiore con la voglia di rimanere quindi penso che questo sia uno degli aspetti più importanti che ci teniamo stretti speriamo di gioire spesso sotto la curva perché poi vuol dire che avremmo fatto il nostro dovere e sono convinto che poi il pubblico di Benevento anche se dovessimo incappare in un risultato sfortunato spero il più lontano possibile ma con questo atteggiamento e questo spirito sono convinto che anche in quel caso ci applaudirà Buonasera mister credo che il complimento più bello in un certo senso gliel'abbia fatto ieri il tecnico del Crotone Zauli perché in conferenza stampa ha detto sul Benevento non abbiamo certezze perché finora ha giocato con due punti con due mezze punte e una punta con la difesa a quattro e con la difesa a tre credo che sia un po' questo il marchio di fabbrica della sua squadra attualmente o mi sbaglio? Sono d'accordo è una carta che dobbiamo tenerci strettissima sia perché mi permette di dare imprevedibilità alla manovra e quindi non dare punti di riferimento agli avversari ma al tempo stesso puoi dimettere in campo i giocatori più funzionali e più in forma del momento e quando hai giocatori come questi sia in campo che dalla panchina ma io basta pensare a chi non ho fatto fare un minuto oggi giocatori come Masciangelo giocatori come Ciciretti al di là della condizione giocatori come Kubiz, Alfieri sicuramente dimentico qualcuno è chiaro che quando hai una rosa di questa qualità sarebbe limitante secondo me utilizzare un solo sistema di gioco sia perché rende prevedibile la manovra agli avversari che perché tante volte non permette ai tuoi giocatori di essere nella posizione congeniale per renderla al massimo io questa fortuna ce l'ho me la tengo stretta ripeto oggi è la vittoria dei calciatori e del pubblico come abbiamo già detto ma soprattutto dei calciatori perché hanno fatto una prestazione gagliarda hanno fatto una prestazione di grande qualità soprattutto dal punto di vista individuale e quindi mi penso la vittoria più che mia più che dello staff tecnico sia veramente dei calciatori perché hanno fatto una prestazione eccezionale dal punto di vista individuale Sonia, ultimo per te Bene l'imprevedibilità bene i cambi Simonetti è stato eccezionale al di là dei due gol ma arriva la Coppa Italia può servire per dare minutaggio a quei calciatori che dicevi tu sono un po' più indietro di condizioni magari anche qualche giovane Sì più che minutaggio sinceramente mi aspetto delle risposte mi aspetto delle risposte da chi magari in questo momento per mille vicissitudini ha trovato meno spazio e spinge per trovare spazio quindi è chiaro che poi qualche situazione penso a ragazzi penso a qualche giocatore che ha avuto problemi fisici qualcosa dobbiamo concedere quindi lì veramente era una questione di minuti ma per l'aspetto generale l'obiettivo sarà A passare il turno quindi noi vogliamo passare il turno non è una partita non è amichevole è una partita precampionato l'obiettivo è passare il turno e ripeto mi aspetto da tutti i giocatori che giocheranno può essere che magari giocherà qualcuno che in questo momento ha trovato meno spazio mi aspetto delle risposte mi aspetto della voglia di far vedere che la prossima di campionato la possono giocare perché ne hanno la possibilità ne hanno la facoltà mi possono mettere in grande difficoltà non a chiacchiere come spesso accade nei spogliatoi qui per fortuna pochissime volte ma con i fatti è una partita in cui mi aspetto delle risposte stiamo restando che l'obiettivo non è sperimentare non è dal minutaggio ma passare il turno perfetto grazie grazie a voi ringraziamo Andreoletti a te Pasquale grazie grazie a mister Matteo Andreoletti idee sempre chiarissime è una squadra camaleontica una squadra che sicuramente è stata forgiata per il 4-3-3 però vedi la prima giornata l'infortunio Billy di Meccariello l'infortunio anche di Ciano fa di necessità virtù Andreoletti sperimenta la difesa 3 e chiaramente adesso lo sta facendo con risultati importanti poi nel secondo tempo è passata con la difesa 4 ricordiamo che oggi è la terza vittoria consecutiva dopo Taranto e Brindisi e il quinto risultato utile di fila cioè come sottolineiamo anche prima con Sonne Billy sembra che dopo la prima giornata il Benevento si sia scrollato di dosso anche l'esordio del campionato quasi la paura permettimi di dirlo della categoria e poi sta macinando gioco chilometri e punti sicuramente anche perché leggo magari qualche commento potrebbe giocare meglio da un punto di vista dello spettacolo ma molti dimenticano che stiamo parlando del campionato di Serie C probabilmente dove non è facile oggi giocavi contro il Crotone che è una squadra che ti consente di giocare perché a sua volta cerca di imporre il suo gioco poi ci sono squadre che si chiudono tant'è vero che proprio applauso di Zauli ieri nella conferenza stampa la prima partita ha detto un concetto secondo me molto importante che spiega anche la difficoltà di questo campionato quando dice vedo comunque il grande equilibrio perché ci sono tante squadre medio-alte che possono far perdere punti alle migliori quindi chiaramente è molto difficile perché ci sono squadre attrezzate e che fanno anche loro del dinamismo della capacità di lotta in campo una delle prerogative maggiori vado nuovamente allo stadio Vigorito dove ha raggiunto la nostra seconda lantella Amideo Benedetti a voi Sonia hai detto bene Pasquale ci ha raggiunto Amideo Benedetti cosa avete pensato sul 2-0 ma sicuramente abbiamo pensato di riprenderla perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte perché se non sei un gruppo forte sotto 2-0 col crotone non vai a vincerla e abbiamo dimostrato che siamo oltre a essere una squadra forte siamo un gruppo che ci crede fino alla fine questo secondo me è una cosa fondamentale Studio Trovato Amideo dopo il 2-0 di Vitale in quella tua reazione a muso duro c'era anche un voler dare un segnale alla squadra per dire così non si fa ragazzi dobbiamo riprenderla soprattutto anche per questo pubblico o sbaglio? Sì sicuramente mi ha dato fastidio l'esultanza di Vitale sotto la curva sì era anche un modo per caricarci ancora di più sicuramente quell'episodio lì secondo me ci ha caricato ci ha dato quella spinta in più per provare ad andare a riprendere la partita e a vincerla come abbiamo fatto Buonasera ero curioso di sapere per quello che si può dire ovviamente che cosa vi ha detto Andrioletti alla fine del primo tempo perché siete tornati negli spoglitori sull'1-0 nel secondo tempo ho visto anche un cambio di atteggiamento da parte della squadra su quali punti ha battuto maggiormente il tecnico? Sicuramente al primo tempo abbiamo faticato a prendere le misure Crutone ci ha messo un pochino in difficoltà ma abbiamo aggiustato alcune situazioni tattiche e sicuramente al secondo tempo ci siamo trovati meglio Tonia ultima per te Parlavi proprio della forza del gruppo al di là dell'equilibrio delle qualità c'è una nuova armonia si respira una nuova armonia quasi come se finalmente il Benevento avesse dato un calcio alla passata stagione sicuramente è quello l'atteggiamento giusto ripartire dalla forza di un gruppo che si va a cercare che si stringe e che non molla sicuramente il gruppo in queste categorie fa la differenza dopo l'annata dell'anno scorso la retrocessione non era facile creare un'armonia all'interno dello spogliatoio però penso che ci stiamo riuscendo alla grande sicuramente alla lunga questo aspetto farà la differenza perfetto ringraziamo complimenti ad Amedeo Benitochi grazie arrivederci bene Pasquale abbiamo pronto Zauli il tempo di microfonarlo perfetto perfetto andiamo tra pochissimo da te Billy la carica che ha suonato anche Benedetti io ho colto e lui mi ha dato conferma in quel suo gesto nei confronti di Vitale per dire stai sbagliando a mio avviso stai mancando di rispetto a una tifoseria in ogni caso a una città intera e in questo momento capisco la garra e capisco anche la transagonistica però ha dato un segnale i suoi giocatori infatti da lì abbiamo visto tutto altro benevento ma credo che a volte nel calcio ci sono dei momenti delle situazioni particolari che fanno scattare la molla probabilmente quella situazione ha colpito nell'orgoglio i calciatori del Benevento e quindi anche la reazione forse perché è accaduto sotto la propria curva eccetera insomma il contesto e quindi scattano a volte questi meccanismi che ti portano a dare come dire il meglio di te a tirar fuori tutte le forze anche quelle residui che è dentro facendo spinta sull'orgoglio dicevo ritorno al Vigorito dove in compagnia di Sonia l'antella c'è il mister del Crotone Lamberto Zauli a voi hai detto bene ci ha raggiunto mister Zauli una sconfitta che pesa sul 2 a 0 sbagliata la gestione o troppo bene il Benevento faccio fatica veramente a dire cosa è successo dopo il 2 a 0 perché è passato troppi pochi minuti per parlare di gestione per parlare io penso che sia stata chiaramente le nostre lacune sulle palle inattive che è evidente che abbiamo perché lo dico così perché l'abbiamo subito anche nelle partite precedenti però io non ho visto questa reazione del Benevento ha trovato casualmente i gol su palle inattive quindi casualmente per modo di dire che chiaramente ci vuole sempre una bravura del giocatore che fanno gol sono stati determinati in quel senso però non sicuramente sulla gestione della palla la gestione della partita quindi è stato talmente troppo tutto veloce per dire che ci possa essere stata una gestione di qualche cosa Studio Buonasera e ben trovato mister siamo solo alla sesta giornata ma crede che mentalmente potrà pesare almeno nell'economia del campionato almeno a stretto giro questa sconfitta subita in questo modo per la sua squadra Beh farò di tutto perché questo non accada perché comunque venire a Benevento e fare un certo tipo di partita e giocare bene per tanti per tanti minuti passare in vantaggio 2 a 0 con una squadra che reputo insieme a Vellina e Catania due corazzate per questa Lega Pro e ci sono tanti aspetti positivi poi parlare di aspetti positivi dopo una rimonta del genere subita dopo un 2 a 0 dove in quel momento la squadra era in pieno dominio della situazione si fa fatica fai fatica a digerire la sconfitta e quindi pensare a quello che sarà io penso che farò di tutto per far sì che la squadra credi nei propri mezzi perché ha dimostrato oggi di averne però sicuramente per portare a casa risultati servono anche altre cose e dobbiamo assolutamente migliorarle perché la squadra esce dal campo secondo me facendo degli errori è vero ma non meritando i punti che ha oggi in classifica Bili Nuzzo Lillo Buonasera mister io le faccio i complimenti perché insomma il Crotone è venuto a giocare a Benevento cercando di fare la partita come insomma nelle sue corde e devo dire che questa sera la partita non so se lei è d'accordo tra il Crotone e il Benevento non sembrava una partita di Serie C sembra una partita di categoria superiore proprio perché le due squadre hanno cercato entrambe di vincere la partita producendo gioco non so se è d'accordo su questa analisi ci sono tanti giocatori nelle due formazioni che hanno fatto categorie diverse stiamo parlando di due società che fino a qualche anno fa pochissimi anni fa erano in Serie A e quindi c'è il blasone della società il blasone storico recente soprattutto ma e quindi c'è tanta serietà c'è tanto lavoro dietro e per questo dispiace perché siamo venuti proprio come ha detto lei con il coraggio abbiamo pressato alto il Benevento siamo riusciti a farli calciare via tanti palloni sporchi abbiamo fatto due gol siamo passati in vantaggio di due gol quindi ci sono sicuramente tanti aspetti positivi però è chiaro quando poi prendi tre gol e in pochissimi minuti tutto il mondo ti casca addosso soprattutto in questo momento però abbiamo abbastanza esperienza per capire che dentro questa partita c'è anche di buono e certo non posso pensare che questa squadra la società e soprattutto i ragazzi possano pensare che il campionato sia compromesso assolutamente no penso che la squadra sia un'ottima squadra se gioca con questa determinazione questa voglia però certamente per il risultato in sé per sé a livello di numerico bisogna migliorare qualche cosa perché stiamo commettendo errori che ci stanno condizionando un po' troppo risultato Sonia non so se è un'ultima per il mister o la lasciamo andare Ultimissima ne parlo perché è accaduto sul rettangolo verde ha detto qualcosa o dirà qualcosa vitale per l'atteggiamento avuto nei confronti della tifuseria di casa anche perché Benedetti ha detto ci ha fatto arrabbiare parecchio ci ha dato un ulteriore carica quel gesto beh io ero lontanissimo non ho visto bene cosa ha fatto se dovesse aver fatto una cosa del genere è sicuramente sbagliato era sotto diciamo l'adrenalina della partita ha fatto un bellissimo gol era il 2-0 per noi la partita è molto sentita dalle tifuserie quindi ha commesso sicuramente un errore Benedetti che valga un pochino l'onda della rimonta ma non penso che quella abbia coinciso sicuramente il ragazzo ha fatto un errore se l'ha fatto però non penso che loro abbiano trovato la forza lì hanno trovato golle che hanno riaperto la partita e li hanno trovati su punizione su calcio d'angolo quando comunque la partita era in piena gestione perfetto grazie a voi grazie bene grazie a te Pasquale grazie grazie Lamberto Zauli per dovere di cronaca Billi dobbiamo anche dire che il primo gol è frutto di un'azione manovrata il gol di Simonetti poi chiaramente è normale quello che dice Zauli però per arrivare a calciare un tiro dalla banderina devi arrivarci a proposito del crotone di quello che diceva il tecnico ha ragione il crotone prende a volte dei gol in maniera banale io ricordo la sconvitta in casa con la Turris anche in quel caso là il crotone ha fatto la partita e poi alla fine ha sciupato tutto ma con degli errori individuali che hanno determinato le reti della Turris in quell'occasione andiamo a vedere i risultati finora maturati in questa sesta giornata ricordando che Billi stanno giocando Picerno e Sorrento questi i risultati Latina Brindisi 1-3 una delle sorprese di giornata Billi Potenza Monterosio 1-0 Messina Avellino 1-0 cade per la prima volta l'Avellino di pazienza Casertania Catania 0-4 Billi questo è il risultato roboante di giornata Virtus Franca Villa Giudiano 1-1 Benevento Crotone 3-2 Foggia Turris 2-1 Juve Stab Monopoli 1-0 chiuderà il programma di giornata la sfida che si sta giocando tra Picerno e Sorrento e la sfida tra Tarranto e Cerignola abbiamo in collegamento nuovamente dal Vigorito quello che è stato il match winner il mattatore che ha spaccato in due la partita che ha realizzato i primi due gol con la maglia del Benevento vale a dire Simonetti a voi Sonia due gol per te una vittoria importantissima ecco che cosa stai provando in questo momento no sicuramente sicuramente tanta gioia tante belle sensazioni perché comunque in una partita importante sono entrato alla panchina essere decisivo così è sicuramente una bella prova sia da parte mia che da parte della squadra che comunque riprende una partita dove eravamo sotto di due gol contro comunque una squadra forte non è semplice e dobbiamo festeggiarla e poi stasera e poi da domani pensare alle prossime studio buonasera e ben trovato per Luigi è un po' un vizio di famiglia il calcio papà ex calciatore tua sorella calciatrice ce l'avete un po' nel DNA il gol e quindi il calcio ma mi racconti l'emozione provata stasera davanti al pubblico al pubblico di Fede Giallorosso un pubblico che abbia sostenuto all'inizio e alla fine addirittura due gol e addirittura il gol decisivo è stata una grande emozione quello sicuro poi in una partita importante contro una squadra forte in casa con tutto il pubblico che ci dava la carica dal primo minuto è sicuramente una bella emozione assolutamente sì Billy ciao Pierluigi una curiosità rispetto al tuo arrivo come ha fatto Carli a convincerti come ha fatto Carli a convincerti sicuro è stata una scelta sia da parte della società forte sia da parte mia quella di venire qui perché comunque conosco il direttore non lo conoscevo però sicuramente quello che ha fatto negli anni passati parla per sé è una cosa nata nell'ultimo giorno che però abbiamo voluto fortemente da entrambe le parti mi ha convinto il progetto che c'era di erro la scelta sicuramente e quella che comunque di entrare a far parte di una società forte una società che vuole riscattarsi diciamo così ultima per te ultimissima l'imprevedibilità e anche la forza di questo benevento giocatori utili e tutti uno di questi sì diciamo che siamo tutti i giocatori che ci mettiamo a disposizione del mister della squadra insieme perché comunque sappiamo che se tutti diamo quel qualcosa in più a prescindere dal ruolo a prescindere dal momento sappiamo che possiamo far male a tutte le squadre mettere in difficoltà tutte perfetto grazie e complimenti grazie grazie a voi ringraziamo Simonetti a te Pasquale grazie grazie a Pierluigi Simonetti a breve brevissimo andremo da Sonia per i saluti finali ringraziando sia lei che Fabrizio Angrisani alla parte tecnica di poche parole Simonetti però come sottolineavo Billy il calcio è un po' un vizio di famiglia ma devo dire che il direttore Carli che crede molto in questo calciatore lo ha ribadito più volte e i fatti gli stanno dando ragione del resto l'anno scorso è stato tra i calciatori che sono messi maggiormente in mostra nell'Ancona e nel campionato di Serie C quindi comunque era un prospetto importante su cui il brevemente è piombato l'ultimo minuto e secondo me rappresenta veramente un fiore all'occhiello di quella che è stata la campagna acquisti fatta dal direttore davvero un gran colpo quello di Pierluigi Simonetti ma poi tutta l'adrenalina la grinta anche del giovane ragazzo proveniente dall'Ancona che davvero ci ha messo tanta 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 voglia grinta entusiasmo e poi Billy l'ha spaccata in due questa partita soprattutto entrando dalla panchina sì ma quello è un aspetto importante perché vedi perdona mi ti devo interrompere perché dobbiamo andare di corsa stasera vado a salutare Sonia Lantella Sonia davvero tanta tanta carne a cuocere tanti temi per il tuo 8 gol per la puntata di 8 gol che ritorna puntualmente domani sera tanti ospiti importanti focus su Benevento Crotone poi chiaramente uno sguardo sulla partita di mercoledì del primo turno di Coppa Italia di Serie C con Giuliano e poi vi proietterete e ci proietteremo alla sfida di domenica prossima contro il Cerignola a te hai detto bene domani appuntamento alle 21 con 8 gol torna per parlare chiaramente di questa sfida ma per andare avanti Coppa Italia poi ci sarà il Cerignola ospiti come sempre importanti interventi Skype per cui appuntamento da non perdere è tutto dal Ciro Vigorito ti restituisco la linea buona serata grazie grazie a Sonia Lantella come sempre precisa puntuale ultimo blocco pubblicitario e poi ci ritroveremo dopo l'ultimo blocco pubblicitario per i saluti finali a tra poco ultimi minuti di Offside Benevento Benevento che batte Crotone 3 a 2 andiamo a vedere la classifica parziale dopo la sesta giornata il campione di Serie C comanda le Ovestabie a 14 Benevento che si issa lì al secondo posto a 13 poi via via tutte le altre Billy rapidissimamente perché stiamo davvero per chiudere anzi ricordo restate lì e dopo di noi ci sarà l'appuntamento consueto della domenica sera con la domenica azzura con Dario Sarnataro e i suoi ospiti certamente risultato rubuante e rotondo del Catania in quel di Caserta 4 a 0 addirittura ma quando hai calciatori come Chiricò di Carmine io non mi meraviglio tra le squadre secondo me meglio attrezzate ha solo il limite che probabilmente non ha una grande rosa per cui chiaramente bisogna vedere la distanza se regge ma sicuramente un segnale importante da parte del Catania oggi Flash davvero siamo in conclusione servirà la partita di mercoledì contro il Giudiano per far incamerare chiaramente minutaggio a chi non ha giocato con vista impegno di domenica prossima 8 ottobre alle 20.45 alla storia di Cerignola Sì sono partite importanti anche perché Andrea Retti ha detto noi vogliamo passare il turno quindi non bisogna pensare che scenderanno in campo così giusto per disputare la partita e quindi sarà un'occasione importante per quelli che giocano meno e che avranno la possibilità magari di acquisire maggiore fiducia maggiore benzina nelle gambe e convincere il tecnico magari ad utilizzarli maggiormente Grazie Billy Grazie a te e un saluto ai telespettatori Saluto al quale mi accodo anche io grazie alla regia curata come sempre sapientemente da Paolo Romano ricordo che il Benevento ha battuto il Crotone 3 a 2 secondo posto momentaneo per i giallorossi noi ci risentiamo prossimamente con Offside Benevento per i prossimi appuntamenti della strega Buona serata Buona serata Buona serata